Volevo fare un breve video per dichiarare quanto, secondo me, sia importante che Dovizioso vada in aprile. Io ho criticato Dovizioso più di una volta quando ha pensato di autonominarsi l'Anti Marquez o l'erede di Valentino Rossi o l'Anti Lorenzo. Non è così. Dovizioso è a un livello diverso, non inferiore, diverso, nel senso che ha sfiorato il titolo, l'ha fatto nei secondi posti, ha vinto molte gare, ma è un uomo di grandissima esperienza. Il fatto che non sia Marquez non significa che non possa essere Dovizioso. È molto importante che uno come lui torni. È molto importante che lo faccia solo Aprilia. Aprilia è una casa che è progredita molto, che non fa ancora risultati eclatanti, ma che il suo distacco è sempre minore dalle altre case. È una moto che sta rischiando, un'azienda che sta rischiando, un'azienda che sta spendendo ed è un'azienda che, insomma, sì, forse ci saranno anche delle difficoltà, non tutti quanti ne abbiamo nel periodo Covid, insomma, le aziende soffrono, ma è sicuramente una big company che si può permettere Dovizioso, soprattutto perché si spera che scenda un pochino a patti a livello di ingaggi. La cosa importante è che Dovizioso ha una grandissima esperienza di MotoGP. È una grande esperienza di V4. Matt Oxley, che è uno molto bravo su Motorsport Magazine, ha detto che un passaggio di Dovizioso in Aprilia sarebbe come se un agente del KGB passasse la CIA o viceversa. Sì, sarebbe una specie di, non di tradimento, perché in realtà non c'è altro tradimento, ma di grande trasferimento di conoscenze, di informazioni, fra virgolette, segrete, quelle sul V4 e su tante cose. Aprilia assomiglia lontanamente alla Ducati, così come la KTM è parente dal punto di vista tecnico e di impostazioni della Honda. e Dovizioso potrebbe essere, se facesse il tester, il Pedrosa dell'Aprilia, ma sarebbe ancora meglio se fosse il Dovizioso dell'Aprilia. Potrebbe dare una grandissima esperienza, potrebbe fare molto meglio, e soprattutto, cosa abbastanza strana, è già caldamente attirato, annuale, sia dalla casa, che in realtà si mantiene un po' fredda, perché, insomma, di due di picche ne ha avuti tanti, che da altri piloti, come Spargarò. Salvadori non ha un grosso potere di veto, anzi, direi proprio niente, visto che sta facendo un po' di fatica, e forse potrebbe essere aiutato ad essere tolto dall'imbarazzo. E Spargarò, che in realtà sta facendo molto bene, ha dichiarato di volere il Dovi, e questa è una buona cosa. Non c'è stata freddezza, silenzi, eccetera, ma un'apertura totale nei confronti di Dovizioso. Ripeto, potrebbe essere un grosso supporto tecnico, agonistico, e di risultati, e anche per favorire un po' gli investimenti, di un'aprile che è migliorata molto di più di quello che i risultati fanno intendere, i numeri. Una volta tanto, il miglioramento non si vede soltanto dalle classifiche, perché le classifiche si spostano, e dai tempi, perché anche i tempi si spostano, ma, diciamo, dalla distanza e da qui davanti. E questa, nel caso di Apiglia, sta diminuendo. Ha ragione Matt Oxley. Ma la cosa più tecnica è che Dovizioso veramente potrebbe togliersi qualche sasso dal calzino e fare incazzare non tanti ducatisti che forse li vogliono ancora bene, quanto chi lo ha fatto andare via, insomma, la Ducati. E quindi la Ducati come azienda, ma soprattutto da Ligna. sarebbe, diciamo così, il vendicatore, se riuscisse, di Aprilia versus Ducati che anni fa tolse a Noale proprio da Ligna, portandosi via il know-how, l'espertise, è tutto un modo di fare che poi si è dimostrato non vincentissimo, ma sicuramente efficace. e ha trovato a Bologna delle carte da giocare che a Noale nel mazzo non c'erano. Quindi sta a Rivola portarlo in casa anche per questo senso di vendetta o di rivincita, sì, forse in termini sportivi è più giusto, che Dovizioso potrebbe portare ad Aprilia, diciamo così, sulla schiena, sulla faccia di Ducati. Insomma, sarebbe un bel pareggio e soprattutto si riporterebbe dentro in pista a un italiano che serve, tutto sommato. Purché tutti sappiano quali sono i loro compiti e non si aspettino, dal punto di vista dei soldi, dei risultati, del prestigio, del riconoscimento, più di quello che in realtà si meritano. Questo è molto importante. Non so se farmi la barba o lasciarmi i baffi a manubro di chopper come Miller. Non so. Non è questo il tema, ma comunque... Grazie. Grazie.